Domenica 5 luglio si terrà il primo Alento Givova Day presso l'oasi fiume Alento. Givova, la nota azienda di abbigliamento tecnico che opera nel mondo dello sport, ha inteso sostenere il Summer Camp Alento, una delle attività organizzate in favore dei bambini. Il Summer Camp si propone di fornire alle giovani generazioni alcune opportunità di apprendimento legate allo sport attivo, basket, pallavolo, tiro con l'arco, alle lingue straniere, inglese, francese, alla musica, la fotografia, il tutto in un contesto ludico ma finalizzato all'imparare facendo. Nell'oasi sarà allestito tra l'altro un campo giochi dove sarà montata una serie di giochi gonfiabili a disposizione dei bambini partecipanti alla giornata. Inoltre saranno offerti ai partecipanti una serie di gadget messi a disposizione da Givova. L'oasi Fiumalento e Givova intendono in questo modo testimoniare la loro attenzione nei confronti delle giovani generazioni. A tutti è rivolto un caloroso invito a partecipare.